Due giovani artisti, un'opera, un murales con i volti dei magistrati che tutti i palermitani portano nel cuore. Ma quest'idea come mai? L'idea nasce dall'Associazione Magistrati Italiani. Insieme al Comune di Palermo hanno incaricato Inward, Osservatorio per la Creatività Urbana, di realizzare quest'opera. Noi siamo due street artist siciliani, la collaboriamo con Inward e siamo stati, come dire, incaricati a realizzarla. Abbiamo accettato l'invito e, come dire, abbiamo felici di aver contribuito a, non dica la lotta contro la mafia, però a ricordare le persone che comunque loro hanno fatto un grosso sforzo per noi, nella speranza che rimanga vivo il loro operato. Tra poche ore il murales sarà completato, quanti giorni avete messo per realizzarlo e che materiale avete usato? L'opera è iniziata una decina di giorni fa, un po' meno. La tecnica è, diciamo, mista, nel senso la base è un quarzo, però abbiamo poi agito con le bombolette spray, quindi comunque fa parte di quello che è il graffito, nel senso utilizziamo un mezzo che è tipico da muro, tipico da strada, ma anche d'utile. I commenti delle persone che vi hanno visto lavorare realizzando i volti dei due magistrati? Guarda, un piccolo aneddoto. La scorsa mattina, così alle sette, mentre eravamo qui sul posto di lavoro, è venuta una signora che si è messa a piangere, si è commossa. Ancora eravamo all'inizio del lavoro, non eravamo neanche a chiusura, quindi abbiamo veramente capito l'importanza dell'opera. I commenti sono positivi e stiamo rappresentando un'icona che per Palermo, ma per l'Italia in generale comunque è stata fondamentale. Questa fotografia l'hanno vista chiunque, l'ha vista chiunque, la conosce chiunque, quindi è un messaggio universale che arriva alle persone. Voi due giovanissimi, un pensiero che vi siete fatti su Falcone e Borsellino? Il pensiero è che ce ne fossero di persone come loro, purtroppo i poteri hanno fatto sì che il loro operato venisse bloccato, perché comunque sono scomode, due persone che così, che hanno lottato in prima persona, erano abbastanza scomode. Non lo so, io ricordo tutta la storia, ero veramente piccolo, ricordo comunque mio padre che era preso da questi periodi in cui i telegiornali non parlavano d'altro, ricordo che erano tempi duri, però ricordo anche il sentimento che ci mettevano i miei nel sapere di certe notizie, questa malinconia nel sapere che c'era delle buone persone in Sicilia uccise per mano nella mafia. Non lo so, forse questo è stato un messaggio che mi hanno tralasciato, per questo sento anche un po' l'angoscia di quel periodo, ma anche la felicità di oggi riscattare anche un minimo, diciamo, il loro operato, il loro sacrificio con quest'opera.